Ciao Ernest, buonasera, spero che tu abbia tipo 4 kg di cioccolata, tu sai che qua abbiamo un problema che, ecco, bravo, guarda che tu, no, guarda che lo sfida dalla, ah ma io posso mangiare così in diretta? Certo. Ma io devo farti le domande? E poi li fai. Ma questa cosa, questa si chiama corruzione comunque secondo me, no? C'è un tavolo d'appoggio? No, guarda, ce ne ho altre se vuoi. No, nel senso, ah, altre, bene, non possiamo vedere, grazie, questa è roba mia, mia! Ah, guai a chi la tocca, allora, no, non posso mangiare, non è carino, dopo, dopo, no, ma è pazzesco, mi sono già dimenticata tutta l'intervista, pensa, no, non è vero. Se vuoi faccio io le domande. Allora, no, caro, guarda qua, la magia e l'arte del cioccolato, Ernst Knamm, edito che non vedo, aiutami. Cairo. Ecco, edito Cairo, benissimo, eccolo qua, tu in questo libro hai proprio raccontato la storia del cioccolato. Sì, perché io ho scritto 20 libri, tutte ricette, questo è il primo libro, senza ricette. Di racconto, di un racconto? Un racconto sul cioccolato un po' romanzato. Ecco, e tant'è che c'è un capitolo proprio che si chiama I miei viaggi con il cioccolato, e da qua l'invito al Chilimangiaro. E allora, noi ti chiediamo, qual è secondo te il paese che meglio rappresenta, nei vari viaggi che hai fatto, proprio questo rapporto con questa materia prima, a me così cara? Per me è il Perù, perché la prima pianta nativa è stata trovata in Perù. Io uso 90% cioccolato Perù, amo Perù come paese, come persone e soprattutto la loro cucina. Pensi nei 50 best restaurants nel mondo, ci sono 4 ristoranti di Lima. Ah però, sì perché poi però loro hanno questa contaminazione tra il giapponese e il perugiano. Sì ma abbiamo il 47esimo, il 28esimo, il sesto posto e il primo posto. Ah il primo è perugiano? E la cuoca del 28esimo posto è la mole del primo. Del primo, e vabbè allora se va tutto in famiglia ditelo. Scusate nel frattempo io ho qua il mio cioccolato ignomio. Ecco qui dentro c'è il cioccolato Perù, il 72% fra Oknam. Quindi questo non fa ingrassare, tu me lo... Assolutamente no. No, bravo. Allora però so che il tuo viaggio in Perù è partito con qualche difficoltà. vorrei far vedere questa foto, nel senso che poi è andato tutto bene. Però quando tu sei arrivato in Perù hai avuto un po' di problemi, loro lo chiamano appunamento di altitudine, è vero? Ma non subito, perché io sono arrivato a Lima e qui abbiamo fatto 3 ristoranti dei 50 best, mezzogiorno sera, mezzogiorno e poi siamo partiti per Cusco. Io ho mangiato praticamente 18 piatti a mezzogiorno, 18 piatti alla sera e 22 piatti il giorno dopo. Quindi non c'entra che eravate sulle Andri, ci sarebbe rimasto qua anche in Pianura Padana. No, no, poi siamo arrivati a 3400 metri e mi hanno tutti detto quando esce il Valerio vai piano. Io ho preso le mie valice, dopo 50 metri mi sono seduto ben volentieri, non capivo più niente. Si chiama appunamento, lo sapevi? Sì, sì, sì. E loro, i locali, masticano le foglie di coca? Sì, mi hanno offerto, ma io non mangio niente che non conosco. No, vabbè, la foglia di coca è una cosa totalmente naturale, niente c'entra con ovviamente. Poi ho impegnato due giorni per assistemarmi. Vedi? Perché vai in albergo, apri la valice, ti inclini, ritorni, mal di testa, ti gira tutto. Eh, lo so. Cosa stiamo vedendo? Cosa stai facendo lì? Allora, queste sono fave di cacao, praticamente quando viene raccolto il frutto del cacao, la cabossa, viene aperto a mano, vengono tolti a mano, vengono fermentati. Dopo la fermentazione di 3, 4, 5 giorni, vengono stesi, qui abbiamo sempre sole, per cui all'aperto, e vengono girati circa 12 volte al giorno perché è una essercarsi alla perfezione. Guarda che meraviglia. Non ci deve essere l'acqua all'interno, questa è la cabossa. Ecco, senti, peraltro tu nel libro racconti anche, diciamo, l'importanza che aveva questa pianta, il cacao, nelle civiltà precolombiane. Sì, perché all'epoca l'hanno utilizzato come una moneta, per esempio. Scambio, certo. Scambio. Poi lo utilizzano all'inizio, era una bevanda, ma non sapevano come utilizzarla, per cui questa bevanda mi hanno offerto era molto amaro, era quasi imbevibile. Poi l'hanno capito, hanno aggiunto delle spezie, del miele, allora è diventata un cosa un po' più dolce. E man mano, ovviamente, il cacao è fatto la strada che è arrivato fino ad oggi. Eh sì, perché insomma, diciamo che il cacao, come lo bevevano i maia, gli alstechi, era una roba, come dicevi giustamente, una poltiglia molto, molto amara. Amara, amara. Mi hanno detto che tu la prima volta che l'hai assaggiato hai detto, meno male che bevo gli occhiali così non si vedeva la mia espressione. No, ma allora, il frutto viene anche detto il frutto di Dio, perché se tu prendi una cabossa in mano in estate, la cabossa è fredda. Se tu la prendi in mano in inverno è calda e ti senti entrare un'energia pazzesco. Eh ma io l'ho sempre detto, vedi, a me piace il frutto di Dio. Ho questa dipendenza. Si dice anche che una donna che non può rimanere incinta, basta che prendi una cabossa in mano e rimane incinta. Ah beh, io sono due figlie, però giuro che non avevo la cabossa in mano. Io e mia moglie ho dato due volte in mano a Giorgio e a Anna. Vedi, ti salutiamo. Dopo l'ho fatto più, la salutiamo. Basta cabossa adesso, eh. No, basta, vado a buttare i miei tutti. Basta cabossa, via. Via, chiusa, la fabbrica del cioccolato, chiusa. No, no. Ecco, allora senti, invece andiamo in un paese che col cioccolato c'entra veramente nulla, ovvero il Canada. Perché parli nel tuo libro di un altro ingrediente, peraltro iper super nutriente, super food, no? Che è il maple syrup, il sciroppo d'acero. Sciroppo d'acero, io sono ambasciatore del sciroppo d'acero del Quebec, mi hanno invitato e sono andato in Canada due settimane con mia moglie e devo dire... Senza il cioccolato, senza... No, qui abbiamo anche lavorato il cioccolato con il sciroppo d'acero. Pensi che a Quebec, nella Banca Nazionale, invece delle barre d'oro, hanno il sciroppo d'acero. In che senso? Nella banca... Sotto. Ah, la riserva? Nel cavo, nel cavo. La riserva? Sì, la riserva, sì, sì. Ah. Quebec fa circa 80% del fabbisogno mondiale. E quando tu arrivi in inverno, perché lo sciroppo d'acero si fa quando c'è uno spalzo di temperatura, proprio un shock termico. Dalla sera a meno 12, di giorno a più 12, allora l'acero comincia a spulgare. Allora, noi siamo arrivati, c'erano due, tre metri di neve, tutto bianco, quindi questi alberi senza fogli. E poi vedi da lontano, questi tubicini azzuri che sembrano dei laser quando Tom Cruise vuole rubare qualcosa, no? Invece fanno un buco nell'albero, mettono un buccheccio e poi man mano, per la prima settimana, vedi uscire piano piano questo sciroppo che viene raccolto nelle Cavanas, dove esce a fiume e questo liquido semitransparente, dolciastro, viene poi pulito e poi viene cotto. Filtrato, cotto. La prima settimana è A, la seconda B, poi C, praticamente la prima settimana è più costosa, più delicato, dorato, poi diventa più scuro. Ah, quindi la qualità con cui viene venduto, capito? E l'ultima è molto scura, che viene usato molto in cucina anche per cucinare il maiale, il prosciutto. Certo, per rendere quel sapore agrodolce. Senti Ernst, invece un altro paese che sappiamo a te essere molto molto caro è il Giappone. Sì, amo Giappone. Mi ha portato la prima volta con il Tiro Malchesi, ha aperto un suo ristorante e sono stato con lui qui un mese e mi è piaciuto così tanto che in pasticceria con il charm italiano ho provato di dormire in famiglia e un pasticceria mi ha invitato, ha dormito per 5 giorni in famiglia per capire come la vita giapponese veramente. Poi mi è piaciuto così tanto che quando sono tornato ho preso un maestro giapponese e per due anni ho studiato giapponese. Quindi adesso parli giapponese anche? Ho studiato per due anni, parliamo di 35 anni fa, ormai ho dimenticato tutto. Ecco, però dato che stiamo parlando di lingue e di nazionalità, tu prima hai detto italiano, quindi tu in fondo anche se sei nato e cresciuto in Germania, tu ti senti un po' italiano oggi? Vivo più del 50% della mia vita in Italia, sono sposata con non un'italiana, con una veneziana. Ecco, che salutiamo di nuovo. Salutiamo Alessandra. Senti Ernst, prima di chiudere, io so però, perché tutti dicono, il grande re del cioccolato, no? Eppure sappiate che nella vita di Ernst c'è stata una donna che ha fatto la torta foresta nera. Ah, la frau Hildebrandt, la mia tata. Meglio di lui. Toh, è vero? Sì, è vero. La tua tatona. La mia tata, il mio compleanno, faceva questa foresta nera altissima, di una bontà, unica. Io ho chiesto a lei la ricetta, me l'ha data, ma sono mai riuscito a farlo uguale come lei. È pazzesco, no? Perché poi questo, tu dici, vabbè, sei diventato il più grande pasticcere, che insomma, uno tra i più grandi in Europa e eppure la tata... E le nonne avevano quel tocco in più che manca a noi. E secondo me anche quel tocco in più fa anche parte, giustamente, è la tua memoria, che se lo ricorda così, no? Sempre, questa torta ce l'ho sempre qua. È certo. Allora, grazie mille davvero a Ernst Knamm. Io vi ricordo ancora una volta La magia e l'arte del cioccolato, edizioni Cairo. Eccolo qua, se siete come me, appassionate e appassionate, quasi anche drogate, direi, di cioccolato. È sicuramente una lettura molto, molto interessante. Grazie ancora. Grazie a te, Cammina. Grazie. Grazie.